C'è il rilancio di Hood a cercare la velocità di Keita, ballone che sfuggia, attenzione, Djokovic si vide nell'aria, ecco la Keita, arriva la Keita, 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 no! 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 Keita! E la c'è in vantaggio! E Keita può dare in vantaggio la Lazio! All'ultimo secondo! Quella è il primo tempo! Attenzione ancora a Candreva dal fondo, ancora un cross, esce il portiere con i pugni a respingere, il controllo ancora, attenzione, prova a rubare palla ancora la Lazio, con Milinko, e il controllo ancora, attenzione, va a rubare palla ancora la Lazio! Go! 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 Ho laけta ??? 2 a 0 buona Lazio! L'H2! 2 a 0! Poi ancora per Piglia E' il pallone per Conco Prova a partire Conco C'è che andrea libero Pallone per l'Uri C'è libero Anderco Attenzione Anderco Andiamo a portare No! 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 Forza a casa! Forza a casa! Forza a casa! E' il pallone per la Lazio Forza a casa! Torra a casa! Il pallone per la Lazio Torra a casa! Torra a casa! Non volare mai Non volare mai Forza a casa! 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 Ciao a tutti Non vuole mai Forza Nazione Grazie Grazie Grazie